Devo raccontarvi un fatto grave che è successo in questa legislatura, molti di voi lo conosceranno come il caso Venezuela, un'infamia che è stata condotta contro mio padre. Bene, in questi anni ho condotto diverse ricerche e questo mi ha permesso di farmi un'idea di cosa sia successo, anche di quali sono gli attori che sono stati coinvolti in questa vicenda, anche i servizi segreti italiani, anche persone nel governo italiano sono state coinvolte in questa vicenda. Ora, molti di voi ricorderanno il caso Venezuela perché è finito su tutti i giornali, tutte le televisioni, tutte le inchieste di approfondimento in televisione, parlavano del caso Venezuela, una valigetta con 3,5 milioni di dollari che sarebbe arrivata nelle mani di mio padre per cambiare il corso delle idee del governo italiano tramite il Movimento 5 Stelle che a suo tempo, si parla del 2010, almeno la storia raccontata, era fuori dal Parlamento, fuori dal governo e quindi sostanzialmente una storia irrealistica che però molti giornali hanno sposato comunque. Ma cosa ho scoperto in questi anni? Beh, innanzitutto i tempi. Questo documento, questo documento falso, è arrivato al giornale spagnolo proprio nel momento in cui il capo politico del Movimento 5 Stelle si era dimesso. Un momento delicato per il Movimento 5 Stelle. L'inchiesta esce sul giornale sei mesi dopo, proprio nel momento in cui si sta discutendo del fatto di fare o meno il voto per il capo politico che doveva essere rinominato, rivotato. Proprio in quel periodo in cui, come molti di voi ricorderanno, io sostenevo la necessità di fare un voto aperto, candidature multiple, con il voto degli iscritti, per poter avere un nuovo capo politico. Questo non successe mai perché nel frattempo è stato cambiato lo statuto, è stato autonominato sostanzialmente un unico candidato, il monocandidato, che alla fine è stato ratificato da alcuni iscritti. Ora, questo per quanto riguarda i tempi. Per quanto riguarda invece chi era a conoscenza di questo documento prima che arrivasse nelle mani del giornalista spagnolo? Bene, questo documento era custodito in un cassetto del governo italiano. Già da un anno, tra l'altro, prima della pubblicazione. Il 27 di aprile del 2019 i servizi segreti italiani con in mano questo documento vanno da Giuseppe Conte, vista la gravità del fatto denunciato dal documento, e lo sottopongono per una sua valutazione. Quello che è stato fatto è nulla. Non si fece né un'indagine su un fatto che effettivamente poteva essere molto grave. Corruzione, riciclaggio, cercare di pagare una forza politica per indurre il governo a fare qualcosa per un paese straniero. Era un qualcosa di molto grave. Ma il Presidente del Consiglio, al tempo, non fece nulla. Non fece nulla neanche nell'altro senso. Se pensava che questo documento fosse falso, era una chiara calugna, un tentativo di calugna, perché al tempo era segreto. Ma non fece nulla neanche quando questo documento è uscito. È uscito sui giornali, tutti i giornali italiani ne hanno parlato, e Conte aspettò ben due giorni per fare la sua dichiarazione, in cui sostanzialmente faceva finta di non saperne nulla, e disse non c'è niente da chiarire, hanno già smentito altri. Nel frattempo, giallo sui 5 stelle, Maduro inviò 3,5 milioni, il Corriere della Sera, primo titolo, prima pagina, la verità, bomba da Caracas, i grillini ora vedono la stella, valigetta dal console a Casaleggio, prima pagina, il sole 24 ore, il Venezuela dei Chavez ha finanziato i 5 stelle con 3,5 milioni, il Foglio, la valigetta di Caracas, la trasformazione del Movimento 5 Stelle in un partito vero passa anche da questo oggetto che rimanda a Tangentopoli, la valigetta di Casaleggio, la libertà e bufera sul Movimento 5 Stelle, finanziamenti del Venezuela, 3 milioni e mezzo a Gianroberto Casaleggio, tutto questo vi ricordo mentre mio padre era già morto da diversi anni. Il giornale, 5 stelle adios, dalla Spagna 3,5 milioni a Casaleggio, prima pagina, primo titolo, il messaggero, Movimento 5 Stelle, ombre sui soldi di Maduro, valigetta a Casaleggio, il giorno, prima pagina, veleni su Venezuela, tormento Movimento 5 Stelle, valigetta a Casaleggio. Ora, tutto questo usciva, il governo nulla. Conte, che aveva questo documento da oltre un anno, non disse nulla, fece finta di nulla. Ora, io spero che nel prossimo governo, che nella prossima legislatura, tutte le persone che avranno a che fare con i servizi segreti, sia le persone che controlleranno i servizi segreti, sia le persone che li gestiranno, abbiano il senso dello Stato. Perché io non tollero che si infanghino le persone che non possono difendersi. Non tollero che si infanghi mio padre. E quindi spero che si faccia chiarezza su un'operazione di calugna pubblica che è stata portata avanti contro mio padre. Per questo io vi chiedo di condividere questo video, perché si faccia finalmente chiarezza su un fatto che continua a uscire ogni sei mesi sui giornali.